Anche questa è una piccola piccola pratica legata alle pratiche precedenti che abbiamo fatto nelle settimane precedenti. Quando siete comodi e rilassati, quando la vostra attenzione non si appoggia su niente in particolar modo, ma resta aperta. Quella attenzione, quella consapevolezza si muove liberamente nel corpo. Notatelo, si sposta da una parte o dall'altra. Ogni tanto sta ferma. Grazie. Grazie.